Le prossime tappe per il Partito Democratico? La costruzione di un progetto per il Paese, siamo già partiti in questo senso su Camera e Senato, il Governo del Paese è una sfida per tutti quanti, abbiamo bisogno di un Governo nel più breve tempo possibile, la crisi finanziaria e la vicenda di Cipro lo dimostra, ogni giorno stiamo presentando una proposta al Paese, oggi sul conflitto di interessi, ieri sui costi della politica, nei prossimi giorni sulle tasse sul lavoro e per i crediti della pubblica amministrazione, chiediamo una fiducia che consenta al Paese di avere un Governo forte, credibile, che cambi la vita degli italiani. Chiedete una fiducia, ma l'incarico andrà a Bersani? Noi auspichiamo un incarico al leader della coalizione che guida il processo politico a Camera e Senato, è un auspicio, deciderà il Capo dello Stato, siamo nelle mani del Capo dello Stato, questa è una fortuna per tutto il Paese e per i gruppi parlamentari. Senti, Berlusconi dice se dovessero prendere tutto, se non ci sarà trattativa, se non si parlerà neanche di un accordo sul Curinale, scenderemo in piazza. Ma io penso che si fanno solo danni oggi facendo questi proclami, la gente vuole solo sapere quando nascerà un Governo in grado di occuparsi dei problemi di ogni giorno, ci chiedono la risoluzione dei problemi, ce lo chiedono gli esodati, ce lo chiedono a scuola tutti, dai docenti alle famiglie, ce lo chiedono le famiglie, ce lo chiedono i cassi integrati, ce lo chiedono le imprese. Io penso che gli italiani vogliano esclusivamente un Governo e noi esattamente come abbiamo dato ai vertici di Camera e Senato delle certezze, lo faremo anche per il Governo del Paese.